Ops a tutti i miei cari opsini e opsine, come state? Io spero veramente, veramente, veramente bene. Oggi sono qua solo per noi, per fare un video di inaudible whispering, inaudible speaking, per farvi addormentare. Quindi questa prima parte del video e l'ultima parte sarà in whispering, ma il resto del video non lo sarà. Quindi non vi preoccupate se non capirete nulla. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che non mi conoscono per aver aperto questo video. Io mi chiamo Matteo e se il mio stile di ASMR vi piace iscrivetevi al canale e magari guardate qualche altro mio contenuto. Va bene? Perfetto. Io allora comincio con un paio di cosette. Perfetto. Chipli, chipli, chところ ch Doubi. Quasi quiere教 parlare. lì, ecco, certo lo che trovi è che potrebbe essere tutto quello che trovi un po' di più vixurata vixurata vissau vissau alla prossima è vero il pezzi non è vero Sì ekkitiqui no ok e Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Avete un attimo di tempo E il video di oggi finisce qui Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio qua il mio video precedente Qua una mia playlist E qua il tasto per andare sul mio canale E vedere tutti i video e tutti gli shorts che vuoi Io ti mando un grande bacio E buonanotte 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 Buonanotte